L'estate Tarantina in quel di Lama, uno splendido paesaggio, una meravigliosa costa, un sole che spacca le pietre, eppure Irene Lamanna, presidente dell'associazione Taranto Turismo, tanta incuria, la manutenzione ordinaria non viene realizzata dall'amministrazione comunale di Taranto, motivo per il quale assistiamo, ci imbattiamo in una sterpaglia pericolosissima e davvero odiosa in un quadro così paradisiaco. Sì, spacca le pietre ma non le teste però. Le teste di chi dovrebbe avere per il nostro territorio una particolare dedizione, soprattutto in questo momento storico dove si vuole puntare sul turismo, sulla vivibilità, sull'ecosostenibilità, su tutto ciò che può portare alla ribalta del nostro territorio e soprattutto le teste di chi in questo momento storico stanno preparando la propria campagna elettorale, raccontando a destra e a manca, ma soprattutto a manca, di lavorare per il territorio proprio ripulendolo. Peccato che in cinque anni non l'abbiano fatto, anzi in nove anni. Peccato che in quasi dieci non lo abbiano fatto e che se ne stiano ricordando soltanto in questo momento. C'è una curva pericolosissima, già di per sé pericolosa, ma lo diventa ancora più nel momento in cui c'è una sterpaglia che ostruisce completamente la visuale. È un rischio gravissimo per gli automobilisti. Sì, l'abbiamo notato tra l'altro proprio in questo momento perché in quel punto che poi inquadreremo, che vi faremo vedere, è appena passato un autobus dell'AMAT, quindi con tutte le difficoltà del caso, oltre che di visibilità per l'automobilista, anche proprio di vivibilità per le bellissime villette che abbiamo poi di fronte. Per concludere, ci sono ragioni igieniche perché tutta questa sterpaglia, questi rami secchi, questi arbusti e quant'altro, determinano il proliferare degli insetti. Degli insetti fastidiosi, ma anche di quelli pericolosi come i topi, serpenti e poi scarafaggi, zanzare, ormai insopportabili. Io, a proposito di questo, devo spezzare una lancia in favore di nessun assessore, ma dell'AMIU, che, ahimè, pur non compiendo proprio al massimo il proprio dovere in questo periodo, come stiamo notando in città, ma lì bisogna andare a cercare le colpe chissà dove e chissà chi, proprio qualche sera fa nel quartiere di San Vito e di Lama, in piena notte, intorno all'1.35, l'1.40 circa, che appassava un camion dell'AMIU che faceva una disinfestazione dalle zanzare, però ovviamente fatto una volta ogni tanto vanifica l'operazione stessa. Vogliamo essere per una volta poco poco positivi, meglio tardi che mai. Meglio tardi che mai, assolutamente. È una punta di inizio, speriamo che continuino. Grazie a tutti.